Come era la parola d'ordine? Ottimismo, come diceva il Presidente del Consiglio, l'Italia è uno dei paesi che affronterà meglio la crisi, era manifestamente una balla, perché il nostro è un paese molto esposto alla grande crisi che sta attraversando il mondo, le cose che sta facendo il Governo, compreso il suo prestigioso Ministro dell'Economia, sono acqua fresca. Sulla linea del Governo l'Italia sbatterà la testa contro una muraglia di cemento, una tantum, carte della miseria, modeste cifre impegnate per affrontare la crisi. Di andare al fondo di questa crisi bisogna cambiare qualcosa di molto serio nella società italiana e nell'economia, intanto di nadarsi come obiettivo ridurre subito le disuguaglianze, perché se pochi possano permettersi tutto e in più possano permettersi sempre meno, è lì intanto che bisogna cambiare qualcosa di profondo.